Siamo qui in collegamento con Bangura al termine della partita vinta dall'Equator 3 a 2 nei confronti della Sierra Leone. Avevate fatto una grandissima rimonta nel secondo tempo, molto aggressivi, molto propositivi. Cos'è successo nel finale? Come avete visto, queste partite dipende da come abbiamo iniziato. Secondo me abbiamo iniziato un po' moscio e siamo svegliati al secondo tempo. E come avete visto abbiamo pareggiato subito 2-2. Ma si vede che manca un po' di allenamento e manca un po' il punto più importante che è per chiudere le partite. A questo punto, essendo la prima partita, c'è comunque grande margine per giocare le prossime partite con lo spirito che abbiamo visto ad inizio secondo tempo, immagino. Ovviamente, ovviamente. Come l'avete sentito a fine gara, io ho cercato soltanto di parlare con tutti, che dobbiamo uscire di campo con testa alta, che l'abbiamo fatto 90 minuti. Con tutta la forza che ce l'abbiamo. Ok, ancora abbiamo due partite e sono due finali. Grazie e in bocca al lupo per il proseguo del torneo. Ciao!